Palazzo Camerini, la sede dell'acquistura di Corso Ercole I d'Este, venduto nel 2016. Palazzo Giulio d'Este, l'attuale sede della Prefettura invece, già messo a bilancio come bene da vendere entro il 31 dicembre 2017. Per far quadrare i conti, l'amministrazione provinciale deve mettere all'asta i suoi gioielli e, se nessun privato li comprerà, allora subentra un'agenzia del MEF, nata nel 2013, l'Invimit che ha come obiettivo quello di investire in beni pubblici che siano già sede di servizi statali. A dirlo è lo stesso presidente della provincia e sindaco di Ferrara, Tiziano Tagliani. Senza mezzi termini, il presidente spiega che le operazioni sono necessarie per impedire che la provincia sfori i conti e dunque entri in sanzioni, ma soprattutto che possa svolgere le sue funzioni. Se vogliamo avere, diciamo così, le risorse non per fare quello che è necessario, ma per fare un decimo di quello che è necessario, dobbiamo chiudere i bilanci con tutto ciò che è possibile. Certamente la disponibilità di Invimit a rilevare contenitori affittati allo Stato è un'occasione importante per la provincia di Ferrara, così come per le altre province e credo che questa sarà la scelta. Del resto è la condizione che abbiamo presupposto oggi adottando lo schema di bilancio di previsione del 2017. Siamo una delle prime province in Italia a farlo, ma lo facciamo grazie alla disponibilità e alla decisione presa di alienare questo cespite. Palazzo Camerini, per un valore di 5 milioni di euro, dunque dopo essere stato messo all'asta è stato acquistato da Invimit. Ora però, per poter completare la procedura di vendita, l'amministrazione provinciale è un obbligo adeguarlo alle norme antisismiche, sottolinea il sindaco. Per noi è un po' più complicato perché prima di poterlo cedere dobbiamo intervenire con l'appalto dei lavori per la ristrutturazione sismica con le risorse del commissariato perché se vendessimo senza avere provveduto a questo perderemo i finanziamenti regionali quindi prima faremo un appalto che peraltro è in corso e poi provvederemo alla vendita entro il 2017. Ora dunque tocca la vendita della sede della prefettura e il valore, la provincia in attesa della stima ufficiale potrà comunque avvicinarsi a quello di Palazzo Camerini.